Grazie, Consigliere De Bernardi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Servato. Grazie, Presidente. Non risulta essere superiore al costo storico sostenuto dall'amministrazione, ma non risulta essere il market price che sarà determinato dal miglior offerente attraverso un'asta europea aperta e adeguatamente pubblicizzata. Requisiti estremamente importanti risultano essere avere un sistema senza opportunità di arbitraggio, dare termini allo svolgimento dei lavori ed eventuali sanzioni nel caso in cui non vengono svolti secondo gli accordi. Le consulenze effettuate risultano essere favorevoli. L'accessione di un'idonea garanzia a copertura degli obblighi e delle sanzioni, nella fattispecie del doppio dei valori di educazione dell'asta. Considerato che questo indirizzo viene assunto per creare sviluppo occupazionale, il nostro gruppo esprime parere positivo. Casale ha bisogno di lavoro. Grazie Consigliere Servato